benvenuti amici sono salopimpos oggi a vostra grande richiesta ritorniamo su minecraft allora l'ultima volta è stato un casino di tempo fa però ci siamo lasciati qua quindi avevamo iniziato questo viaggio e ci siamo ritrovati qua qua dove di preciso un po dispersi per la mappa che tra l'altro non me lo segno perché siamo un po più lontani rispetto alla zona di origine quindi io direi di allontanarmi ancora di più ma così nel dubbio ci allontaniamo un po di più perché effettivamente io volevo trovare qualcosa di interessante ma ancora non abbiamo trovato praticamente niente quindi continuiamo la nostra esplorazione ragazzi quindi come sempre vi invito a lasciare un bel like per supportare la serie di minecraft così da portare altri video mi raccomando supportate sempre le serie che vi piacciono tra l'altro sta scendendo la notte di giama sto iniziando ora ma perché ma ce l'avete con me ma dite che ce l'avete con me allora l'altra volta vi ho raccolto anche questi le bacche dolci possiamo addomesticarci le volpi il problema è che non ci sono volpi giustamente non è che mi mettevano le volpi qua vabbè niente direi di accamparci la luna è arrivata prima che avviene qualche mostro orribile qualche creeper mi fa saltare la testolina direi che di accamparci forse allora speriamo che di trovare qualcosa oggi di decente almeno anche un villaggio semplice villaggio lo fate trovare un semplice villaggio dunque vabbè stiamo salendo poter parte quello che c'è qua guarda quell'albero poi no dobbiamo raggiungere quell'albero ragazzi scopo di oggi raggiungere quell'albero guardate lì chi è che com'è che c'è cresciuto con l'albero lì chi ce l'ha piantato vorrei capire allora andiamoci forse magari c'è un tesoro nascosto e poi le porceline porceline arrivate la tua ora scusami ma io devo sempre sopravvivere e qua c'è l'amica tua la tua fidanzata tua moglie non esiste più tranquilli ma che campi a fare se tu ho ucciso il marito allora andiamo raggiungiamo l'albero vediamo se abbiamo la scaletta pronta mi sa di no e quindi ce la andiamo a fare allora scaviamo scaviamo forza forza ok scaviamo 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 vediamo se quell'albero lì nasconde un tesoro non ci spero però ci spero nel senso che sicuro non troverò niente come sempre forza salta tizio veloce non troverò niente come sempre ma quanto parte quello che c'è qua che zona carina eccoci quale c'è pure la neve però ovviamente come già sa come già praticamente intuivo non c'è un fico secco e che vabbè che volevo trovare magari da qua abbiamo una visuale più ampia allora che non vedo niente aggiungiamo altra sponda magari da lì si vede qualcosa di più la mucchine l'altra sponda come volando l'abbiamo carbon ma tra l'altro è tutto sospetto com'è che sta in piedi sta cosa qua quasi quasi raggiungere quella mucchina non lo so mi piace quella zona lì l'altra mucchina è precipitato tuo marito è precipitato però è ancora vivo vedo sì perché si si smuovicchio un po in acqua dico forse avrà qualche zampa rotta però è ancora vivo importante essere ancora vivi vabbè io di sicuro non trovo da recuperare quindi arrangiati non abbiamo manco possibilità di farci un ponticello quindi o ci buttiamo e riscaliamo oppure niente avanziamo e basta che già la vedo brutta come situazione tra l'altro ancora dobbiamo continuare la casa l'abbiamo iniziato un casino di tempo fa però non l'ho più finita perché mi mancava la pietra dove sto andando qua e qua ammazziamo così a casa andiamo avanti forse andiamo avanti procediamo dal canna da zucchero mi potrebbe interessare e quindi la prendiamo vediamo un po la c'è un'entrata quell'entrata lì potrebbe essere interessante non a negare tizio ma che sto osservando dai per favore ok qua dovrebbero esserci i lupi solo che io non ossa non ne ho perché ne ho uno per miracolo li ho consumati tutti l'altra volta nella speranza di addomesticare un lupo però mi ha fregato praticamente tutte le ossa che aveva e alla fine non l'ho domesticato quindi grande così una pecorella niente io proverei ad andare in quell'apertura però dopo aver ammazzato la pecorella così se mi va bene due pecorella che fate che fate il picnic non lo fate più non lo fate più tranquilla pecorella è crepato pecorella è crepato ok altro che piantaggione io qua ammazzando l'animale ho praticamente tutto quello che mi serve una mucchina ho visto tuo padre tua madre lì ti sei dispersa te li faccio raggiungere io tranquillo va bene all'apertura mi sono perso l'apertura io ammazzare l'animale però era da qua forse ve lo faccio a nuotare però c'è l'apertura qua non era qui che mi che mi nascondete le aperture dove eccola perfetto vediamo era questa sì sì perfetto vediamo vediamo perché pesciolino ecco qua ragazzi una bella caverna però mi sa che la caverna vuoto perché mi sa che è tutto ho fatto il giro però da qua eccolo qua uno scheletrino carino carino veramente aspetta che adesso ti colgo di sorpresa e questi non sono quelli di minecraft dungeons questi picchiano questi picchiano ok la torcetta me la ripiglio va visto che alla fine non c'è niente ok facciamo il giro magari continuo e ti pareva se non c'era il creeper il mio peggior nemico di sto gioco crepa creeper grande così grande così grande così grande così comunque la caverna c'è ragazzi è la caverna c'è e quindi direi di intrufolarci magari troviamo qualcosa di più interessante rispetto ad un villaggio e mi sa invece che è tutto chiuso è tutto chiuso ma che bello veramente ma che bello ma avete fatto esultare per mezzo secondo niente mi ho fatto un buco nell'acqua in tutti i sensi ce ne possiamo uscire niente continuiamo allora la nostra esplorazione ritorniamoci da dove che siamo entrati forse nel dubbio prenderei queste canne da zucchero zombie annegato non annegare crepa crepa va ti evito di annegare va bene dobbiamo mangiare mangiamo forse ok grande così le costolette qua sono fighissime ce ne andiamo no torniamo indietro così andiamo sempre dritto sempre dritto chi se ne fredda qua però potrebbe esserci qualcosa mi sa che viaggiando viaggiando arriviamo direttamente alla maggio qua tutta pietra effettivamente mi servirebbe però scavare così a caso mi irrita mi irrita quindi no vediamo vediamo sto sto tornando dove che ero prima praticamente un lupetto sì ma io ossa non ne ho ne ho due non basteranno mai ma proprio mai proviamo lupetto dipende da quanto mangio ho buttato cose no lupetto ho due ossa ti bastano che ne pensi vieni qua vieni qua non scappare vieni qua che ho le ossa vieni qua vieni qua vieni qua piccolo piccolo ho le ossa non scappare ho le ossa tieni mangia vieni qua mangia ok uno e due ti è piaciuto però mi ha dato i cuoricini ok l'ho domesticato ragazzi con due altra volta ne ho sprecato una marea ok seguimi ciccio vieni qua che testa è la segui forza avanti su che sei il mio cagnolino di fiducia grande così almeno c'è l'obiettivo di addomesticare cinque lupi se non sbaglio e uno ce l'abbiamo va bene mi stai seguendo se non ti perde dai avanti su che tu la conosci la zona invece io per niente allora andiamo sempre di qua vediamo c'è andata bene forse con due sole ossa abbiamo addomesticato un bel lupacchiotto così mi difende i nemici qua c'è neve la mi sa che ho fatto fatto ci sono sempre qua e tre ore che giro un solo a casa lupo seguimi va no no da qua torniamo indietro andiamo di lava saliamo ancora saliamo ancora lupetto non ti perdere non ti perdere che momenti ci accampiamo forse qua c'è niente carbone chi se ne frega del carbone e sta scendendo nuovamente la notte la che c'è io affrontare la notte perché qua è zona di lupi quindi magari uccidiamo qualche scheletro proprio che non vedo niente polletto polletto è arrivata è arrivata da ora polletto è arrivata amadori poveretti allora mi stai seguendo sì non ti perdere per favore allora il legno non ci serve e qua fiorellini tanti fiorellini porcino stiamo cambiando di nuovo zona non cambiamo zona 30 lupacchiotti qua non li troviamo il maialino invece c'è lupo lupo attacca il maialino lupo maialino lo attacca lupo maialino attaccalo attacca ma che lupo inutile che ho preso l'ammazzio tranquillo tranquillo sei stanco si dopo tutta sta strada che hai fatto effettivamente ma allora niente sta scendendo la notte direi di affrontarci la notte a sto punto così facciamo un po di ossa qua non c'è niente ovviamente che cosa avrei voluto trovare non lo so qua è interessante altri lupi non ne vedo altre bacche raccogliamo le bacche però non ci passiamo sopra perché prendiamo danno ok le volpi ancora non ce ne stanno niente volpi solo lupi tra l'altro uno solo perché gli altri non so che fiano abbiano fatto allora questa l'ho preso va bene ok rompiamo qua rompiamo qua lupo mi aiuti a raccogliere le bacche per favore quel lupo inutile che ho trovato che è successo preso l'anno mi ha rallentato preso l'anno allora affrontiamo la notte ragazzi che inutile che qua dormiamo senza per niente magari magari crepo prima però continuiamo è proprio che non vedo niente non è qua no così torniamo indietro andiamo avanti andiamo avanti in parterriti forse che c'è che abbiamo qua non vedo niente siete un fico secco di notte niente scaliamo che c'è qua ho visto qualcosa di interessante no ti pareva qualche scheletro non c'è niente non c'è niente altro che scheletro eccolo qua pure col cappellino pure quello dorato aspetta qua c'è più di uno non mi ammazzate per favore vieni qua sono caduto proprio beh meglio così dov'è che sono ma dov'è che sono caduto ma dove ma qua ci crepo ma qua ci crepo no mi sa che ci crepo qua mettiamo torcia perché non mi vedo abbiamo scoperto una caverna a caso proprio a casissimo ma abbiamo scoperto una caverna quella aveva un elmo d'oro vabbè alla fine l'elmo d'oro ma chi se ne frega importante essere sopravvissuti qua ma non ne uscirò più comunque l'obiettivo abbiamo raggiunto abbiamo trovato una caverna ragazzi e mi sa che questa sarà ancora più grande di quella dell'altra volta bene ragazzi direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza abbiamo corso abbastanza rischi ho rischiato effettivamente di morire malamente quindi usciamo mi salvo la partita supportate la serie di minecraft lasciando un bel like iscrivete al canale se ancora l'avete fatto attivate la campanella e noi ci vediamo al prossimo video oggi torniamo su scary teacher 3d allora l'ultima volta abbiamo completato il capitolo 2 abbiamo fatto il date night or sappiamo dato da mangiare dei vermi al fidanzato e alla maestra oggi quindi andiamo al capitolo 3